Grazie a tutti. 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 Lo vedi con ragione? Io non centro nulla con lui. Marino! Se sai il nome vuol dire che lo conosci? Dov'è? Dove sei andata a ficcare? Non lo so. Perché lo vuoi vedere? Perché non posso? Ancora meno impedite? No, io non ti pedisco niente. E allora che vuoi? Non sai dov'è il bambino? Che Lanfranco è morto lo so già. Che c'entri te in questa storia? Non so neanche che c'entro io. C'è una figlia. C'è stata una figlia. Questa è la mia vita. Anche Giovanni è la tua vita? No. Non lo è più. Anzi non è stato mai. Io ero inaffidabile. Dicevano. Cos'è? Ora non lo sono più? Solo perché il padre è morto? No, no, non vale. Tu perché sei scappata? Ma lo sai come lo chiamava suo figlio prima che nascesse? Protuberanza. Guardava la pancia e diceva... Scriveva, protuberanza. Scriveva? Perché? Ma perché mi costringe a ricordare? Posso essere lasciata in pace? E allora perché gliel'hai lasciata a lui? Perché era suo. Nasceva da lui. Era... era tutt'uno con lui. Io non c'entravo nulla. Io sono una buona madre, sai? Perché mia figlia è tutt'uno con me. E con suo padre. Ma lui no. I figli esistono a prescindere da noi. Marina! La géométrie d'Euglid è riconnue per le regle, le axiome. Come celui che dice che, per questo punto, non può passare qu'una sola linee parallele a la linee. Il matematico russo, Lobachevski, soutiene che questo axiome è fatto. E ha successo a construire una géométrie assolutamente correcta, come la géométrie euglidiana, ma con dei teoremi totalmente differenti. La 1re, la géométrie non euglidiana. Au revoir, a demain! Au revoir! Au revoir! La... La... Il m'a descendu un filo. Ah, un bambino? Oui, il est là. C'est bon? Je suis, ouais. Dimanche, on y va à la mer, on accueille Bertrand. Ah, mais il fait froid et puis il y a plus de 300 kilomètres. C'est les heures de l'air qu'il est heureux de Bertrand. Ah bon? Dimanche, dans l'après-midi. Ah, ça va. Oui, on va voir. Je suis quand même chez vous. Ben oui. Ah, merci. Oui, je vais. Salut, là. Salut. Sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione!